Sono passati un paio di giorni dall'ultima volta che ho giocato, però vedremo di non essere diventati nabi. Faccio solo un giro per Bogano prima di andarmene. Tipo qua, posso fare questo? Che mi porta qui? What? C'è tutto un mondo a Bogano! Cazzo, è per fortuna che ho esplorato ancora un attimo il Bogano. Steam canister, acqua è... Cos'è questo? What? Fa cose? Ma non penso di poterlo ancora azionare. Aspetta, sono quassù? Conosco questo posto? Sì. Fino a prendere un po' senza sbagliare. Ah, aspetta un attimo. Qui si trovava il salto a sbagliare, no? Ho ho! Ah! Come faccio? Aspetta. Ci sto provando, eh. Non penso di poterlo fare. Perché non me lo lascia spammare più velocemente di così. E non è che si sale poi così tanto. Ok, vediamo se riesco a tagliare la... L'ingua del Bogano anche qua. Ma... Ma come? Jogging. Non fa per me. L'ho fatto un giro enorme per tornare qui, quindi spero che... Spero di riuscire a ucciderlo. O almeno a colpirlo. Dai, sputa. Ehi! Fuck. Non è giusto. Mannaggia. Ci sono troppi di quei stupidi monstri chatoli in giro. Devo uccidere prima la... Devo... Voglio solo tagliare la... Lingua a sto tipo. Non so perché. Perché... Non devo averlo targettato, l'unico. Ma come? Allora come devo fare? Ah, ma quando l'avevo colpita mi toglie, forza. Magari quando può arrivare, vada. Se non me lo fa. Dai, scutami. Non gli ho tagliato la lingua. Mannaggia. E c'è chiaramente un posto, no? Però... Non posso fare questa roba. Sentite, basta perdere tempo in stronzate. Taglieremo la lingua ai Bogdan in un altro momento. Però uno skill point. Attenzione. Uh, prendo questo. Intanto non li uso per ora. Questo dovrebbe fare così. Devo andarmene da questi pushed. Chiaramente ci sono cose che posso fare. Ah. Che potrò fare. Ah! Fanculo sto tipo. Perché hanno più vita? Non hanno decisamente più vita. Sembra però. Ah, Bogdan può essere. Non riesco a tagliare la lingua. Però... Boh. Beh. Ho ottenuto uno stimolo in più. Non cadere nei miei buchi. Nell'outboid. E un attimo. Cos'è questo posto? Che c'era sempre. Hey there, little guy. You're gonna get eaten. He did. Cosa c'è qua? Cosa? Cosa? Beh, è decisamente altra roba che non posso fare. Ok, di sicuro non mi stanno spiegando. Se la posso fare. Quindi... Mi fido. Se la potrò fare? Chissà.